Avviata la bonifica dei residuati bellici sulle sponde dell'Arno per la costruzione del passaggio ciclopedonale tra Badia VII, Riva Sinistra nel comune di Scandicci e la stazione ferroviaria di San Donnino a Campi Bisenzio, Riva Destra. La nuova pasterella lunga 180 metri sarà suddivisa in due campate di circa 69-110 metri con una larghezza variabile tra i 4 e i 60 e i 5 e i 90 metri. L'opera svolgerà la duplice funzione di collegare i percorsi ciclopedonali esistenti sulle due rive dell'Arno e consentirà l'accesso alla stazione ferroviaria dalla sponda sinistra del fiume. In questo senso la nuova pasterella rappresenta la parte infrastrutturale di maggior impegno del progetto. L'opera è a carico della città metropolitana di Firenze che spenderà circa 100.000 euro per la bonifica prevista in 40 giorni. A conclusione sarà indetta la gara per la costruzione del passaggio ciclopedonale.